Buonasera amiche amici, benvenute e benvenuti a gara 2 dei quarti playoff Virtus Segafredo e Picasso Brindisi. Cordinier, blocco di JT, Cordinier ha spazio! Se lo prende lo spazio Cordinier! Bellinelli che deve ancora trovare il primo canestro della sua serata! Per Bellinelli che si prende un'altra tripla! Bellinelli che è bello caldo, bello carico, Bellinelli ancora! 3 di fila dall'arco per Marco Bellinelli! Pronto il blocco di Michi con la Cordinier che alza la parabola per Jordan Michi! Gara 2 e della Virtus 109 a 95, la Segafredo va 2 a 0 nella serie dei quarti!